Guarda più sotto di me quindi, però non sarà raga del tutto, rimane piccola, I guess Sempre negativo, eh mate che devo fa... purtroppo... così Host di The Game? Non ci posso credere Grazie mille dell'host, Jacopo Pugni in chat Sì, di uno per ridere, non fello uno skillshot, guarda Uno non ho fello Di uno per ridere? Adesso mi sei parlato di raid, eh? Figli di puttana, gli sei parlato di raid Allora, niente ci ho dato a The Game Grazie mille Guarda dagli effettivi, che lo sei? 3, 2, 1 Vabbè, impara a giocare, i ragazzi, veramente Ho perso il minion dext, sapete? Ho un asset a questo? Oh no, un asset a uno C'è un numero di attacchi che mi fanno danno Il raid giocava molto bene, giocava solo per il safe Porco dio Scusate la bestemmia Beiter Ma lo vedi che sta andando via Ma Beiter cosa Beiter cosa che sta andando via Beiter Beiter Porco Diucce che nervoso Beiter 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 Ma Beiter Cosa cazzo Sta andando via Beiter E adesso Eh coglione Beiter 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 Vi si ne botte Non ti rimango Mai che non ti pagassi Beiter 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 Dovunque va Twitch muore qualcuno Eh Sarà che sia un coglione Twitch Eh Non so se buildare Tipo Sia buono Ubbietare contro lei Oh non vado in giungla Una volta Guarda che succede Comunque lei è molto forte Contro di me Io mi sa come devo buildare un item Come Lost Chapter Actually Primo item Sapete Non c'ho male E mi è arranged 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 Bueno Non ho i soldi per last chapter Ovviamente Quindi Non lo facciamo Non posso fare niente Purtroppo Saline È so bad Non sarei dovuto morire Questo è poco Ma sicuro Ovviamente 1v1 Ma Sono morto Perché ho usato il flash A cazzo di cane prima C'è stato tutto Nel suo strumento Sono un coglione Ecco questa è la cosa principale Hai avuto la Q Eh Like Comunque non riesco più A sopportare il tilt adesso C'è la Q E' la Q Mi interno Dobbbero vedere Se arriva da là Quindi sta sicuramente qua Il problema è che Non hard pushando Sta wave Mi ritrova veramente In una situazione Di merda Io Che la poggia un po' Su tutti questi Sia che sta qua Sia che sta là Mi beta un casino Quindi La cosa è questa Eccolo lì Se qua Avesse doggiato all'indietro La mia ulti Non mi sarebbe comunque venuto addosso Perché Ho la W Ma forse Padova fare Semplicemente W E non ulti Sono un coglione Actually Avrei potuto fare W e basta An ally has been slain An ally has been slain But I never got An ally is unstoppable Vedete ad esempio Io ho dato una morte a Erelia Una kill Erelia Perfetto Va bene ho sbagliato Bravo Bot sta intendo Jungle sta intendo Mid è l'unico che sta giocando decisamente bene Ma Jungle lo sta intendo Quindi Game perso Morsettino Morsettino Sì Sì che ne l'allia c'ho l'archangel ma non ci pulisco il culo perchè non ce l'ho anche staccato eh hanno aiutato un po' tutti non so che build ha adesso credo che il murillo sia ok che mi dà vita e il magic pen c'ho il flash non riusciamo a fare un bel fight c'è il zoom qua c'è il magic qua c'è qualcuno qua oh riusciti let's go nice andrò top però non prendiamo niente da stagliere capito non prendiamo nessun obiettivo non riusciamo a prendere non riusciamo a prendere il drago non riusciamo a prendere nulla ora ovviamente a casa è morta il ray è ancora a botto Zoe è morta da Riella sono tutti i bozzai di Talena di Tristana che è qua poca droga se lo ha già questo non mi riesce a prendere grazie per il sub e benvenuto alle gagne di cane gg gogo1945 grazie mille del sabbro del sabbro benvenuto alle gagne di cane manca veramente poco per eh non posso fare niente grazie mille mate benvenuto alle gagne di cane c'è un atlus miso indietro peccato avevo dovuto quellare anche Tristana ho dato un dolce della madonna però c'era Resina bla 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 senza kick e Tristana avremmo fatto double kill però mentre credo che senza kick e Tristana avrebbero dato già il mio ultimo quindi però avremmo provato a dato già il mio ultimo non mi avrebbe killato c'è una serie di conseguenze che ovviamente Resina sta a giocare pure male come fai che io appago giù whatever gli rally a livello 10 buono messa Irelia Resina ha fatto l'Erod però ho anche ovviamente sbagliato non posso pusha fino a qua non so dove sia Irelia ma vai dormite 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 non cesate non cesate Resina non cesate Resina prendiamo a dormire no se non cesano muoiono forse devo fare Irelia ok 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Io mi faccio la rely, actually Non so se farmelo o meno, perché però per... Madonna, vaffanculo, vado di rabbi Vado di rabbi Mi serve danno subito Il fatto è che fare 140, andare a 300 AP è per... Non ho dato di cosa a buildare, actually Jacopo? Dica? Grazie a tutti per il sub e benvenuto alle gagne di cane C'è Jacopo in chat Jacopo, se tu non mi voglio fare rabbi o non dà tipo di un item come... La zoning o lo spellbinder Ma adesso ho la mia ulti Ma adesso ho la mia ulti Adesso ho la mia ulti Che si è buggata, non è andata? La vedete la mia ulti che non è andata? Zonia Vabbè Allacchi Eh sì, Jacopo Cioè, mi hanno mandato la ulti veramente, non ci posso vedere Morca troia Ma veramente Pure che sta cosa ci si mette, che non mi hanno le ulti Kinda sad C'è un altro mountain, sarebbe veramente buono per prendere come win condition Perché riusciamo a fare il baron poi Cioè 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 Possiamo rafferci il baron se lo scivano per me secondo me Cioè 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 Facciamo questo Facciamo questo Facciamo questo per favore Ma facciamo questo e regaliamo Oh Please Please Cioè Please Cioè 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 Quasi assedri stanno bro Trollato io, potrò giurla meglio qua. Se ne si fai dato la c***o l'avrei killato. Vieni da qua, vieni da qua. Sono tutti morti, però c'ho i redi a tp. Vieni da qua, vieni da qua. 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 Vieni da qua. Vieni da qua. L'ho fatta apposta per esempio così tante lastre. Vieni da qua, vieni da qua. Vieni da qua, vieni da qua. 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 Ma se lo butti fuori dalla mia dpv però. Occhio Kaisa Era pesato se stavolino per te Abbiamo metto il game veramente Abbiamo metto Abbiamo con l'apertare Abbiamo con l'apertare Abbiamo con l'apertare Nocch top damage Non ho giocato Ma l'ho fatto degli ultimi Stupendo Quello che ho fatto Alla torre mid Twitch poi ha giocato bene Perché è scalato Ma quello che ho fatto Alla torre mid Io ho preso double kill Lui ha preso double kill Ci ha mandato andare avanti GG Non abbiamo giocato per niente